Il Napoli Teatro Festival entra nel vivo con Goldoni in scena al Mercadante. Il regista Maurizio Scaparro rappresenta la bottega del caffè con Vittorio Viviani nel ruolo del caffettiere Ridolfo e la partecipazione tra gli altri di Pino Micolle e Manuele Morgese. I tentativi del gentiluomo napoletano Don Marzio di distrarre dai doveri coniuguali i giovani Eugenio e Flaminio con il gioco delle carte. Una commedia che coinvolge Napoli e Venezia guardando tramite gazzette e orologi il vecchio continente, una delle ragioni della scelta del maestro Scaparro. Come sapete Goldoni andrà a vivere a Parigi appena in tempo per la rivoluzione francese che intanto è scoppiata ma non lo coinvolgerà e non andrà invece mai come nei memoir dice avevo una grande voglia di andare a Napoli, non ci sono mai stato, non sono mai riuscito a stare a Napoli. Perché questo amore grande? Perché lui vedeva in maniera incredibile in Napoli qualche cosa lontana ma vicina, quasi in questi momenti di teatri nazionali si potessero identificare due momenti nazionali di lingua, la napoletana e la veneziana. E un terzo elemento che è a Parigi dove lui andrà. Allora mi accorgo che alla fine di questi giorni di prova io ho cercato di dedicare questa mia bottiglia di caffè a Venezia evidentemente, a Napoli che Goldoni non ha mai visto e a Parigi per una sorta di ideale non compiuta ancora oggi Europa. Nell'ambito del Fringe Festival è andato in scena nel ridotto del teatro Prometheus 2, rivisitazione di Eschilo scritta da Lowell e di Florio e portata in scena da Antonello Cossi a Paolo Cresta e Valentina Gaudini. Un testo che in ugual misura rende onore a spazio, testo e suono rendendo il mito antico ancora più moderno.